buonasera benvenuti a tutti è un piacere rincontrarvi questa serata la voglio dedicare sempre come sapete ormai a trattare qualche argomento dell'antica medicina ayurvedica chi magari non aveva partecipato ad altre serate ad altre trasmissioni vi ricordo alcuni principi di di fondo di questo antico sistema di medicina che fa parte di questa conoscenza generale molto antica parliamo di migliaia di anni fa non solo centinaia ma migliaia di anni fa possiamo definirla questa scienza perché è una scienza a tutti gli effetti in quanto da degli effetti ripetibili riproducibili e verificabili proprio per i benefici che può dare a tutto il nostro modo di vivere infatti della scienza vedica fanno parte non solo la medicina ayurvedica ma anche l'architettura vedica la musica vedica l'astrologia e l'astronomia vedica e tutti quegli aspetti che in qualche modo favoriscono la buona armonia dell'essere umano con l'ambiente circostante e con se stesso uno degli aspetti della scienza vedica è lo yoga noi yoga lo mettiamo subito in relazione ovviamente a quanto ormai si si pratica anche comunemente in tanti centri in tutta italia quindi lo mettiamo in relazione a queste posizioni che facciamo assumere al nostro corpo per trovare poi un beneficio nel rilassamento profondo e quindi una ricarica nella vita quotidiana dello yoga fa parte anche la meditazione trascendentale di cui vi ho accennato già in altri incontri questa tecnica mentale che permette semplicemente di utilizzare quello che è già la risorsa interna al nostro sistema nervoso che i nostri ricercatori e neuroscienziati hanno definito come default mode network di default quindi obbligatoriamente la nostra mente entra in uno stato di maggiore quiete per ricaricarsi e questo è sostenuto da quell'attività del nostro sistema nervoso più rivolta verso le attività profonde verso il talamo l'ipotalamo e i nuclei più profondi del cervello piuttosto che al contrario come avviene nella nostra attività quotidiana l'attivazione delle zone della corteccia cerebrale quindi il nostro cervello per mantenere la propria efficienza e quindi coordinare al meglio tutte le attività della nostra fisiologia della nostra neurofisiologia assume questa attività verso l'interno piuttosto che verso la stimolazione della corteccia cerebrale questo default mode network nella tradizione della scienza vedica è appunto lo ritroviamo in quella parte della scienza vedica dedicata allo yoga alla quindi unione unione di che cosa mente corpo d'accordo fino lì ormai anche nella medicina moderna ci siamo arrivati ma mente corpo e coscienza mente corpo e anima che cosa si intende per coscienza e anima io ringrazio come sempre di essere ospite in questa trasmissione focus 3.0 il mistero della vita enrico ballantini e anna tamburini torre sono i due pilastri di di questa rete no che che fornisce informazioni su quello che un po il mondo della 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 spiritualità no il mondo della della di quello che viene meno considerato nella nostra cultura così dominata dalla dal fare dal agire dal mostrarsi dal dal essere attivi a un certo livello quando parliamo invece di scienza vedica parliamo di tutto quello che sostiene la la nostra quotidianità la nostra quotidianità la nostra attività perché l'attività fa parte della vita non è che eh quello che eh dico io nel mio ehm come dire nella mia eh trasmissione che riguarda la scienza vedica è l'antitesi di quello che viviamo nella nostra quotidianità cui aspiriamo e che cerchiamo di realizzare e solo quell'altro aspetto della medaglia che purtroppo viene molto spesso trascurato e da trascurare questo aspetto trascurare quindi questo yoga quest'unione mente corpo e anima o coscienza porta a quei risultati che ahimè sono sempre più frequenti ehm che ci portano a non essere soddisfatti ad ammalarci a eh così vivere una vita come ci dice anche la psicologia moderna eh utilizzando solo il nostro cinque dieci al massimo quindici per cento delle nostre capacità delle nostre possibilità e proprio per questo la scienza vedica da migliaia di anni ci dà invece gli strumenti per usare il cento per cento o addirittura il duecento per cento il cento per cento della nostra vita nel relativo quindi nella nostra eh quotidianità nelle nostre eh ricerche di di affermazione di di successi di di benessere a tutti i livelli e però il il cento per cento anche dell'assoluto il cento per cento di quel livello profondo che ormai da più di cent'anni i fisici hanno assolutamente scoperto essere il il fulcro di tutta l'esistenza e attività dell'universo noi fisici eh lo chiamano il campo unificato di tutte le leggi di natura ed è quello che eh ormai anche nelle neuroscienze viene appunto definito la coscienza il sé no eh molti che hanno studiato greco ricorderanno questa frase eh scritta su questo frontone di questo tempio ad elfi gnozzi se autonno no conosci te stesso conosci te stesso in che senso non solo nel senso più superficiale del termine no quali sono le mie preferenze in tutti i campi eh nei campi eh dell'alimentazione piuttosto che nei campi degli sport che mi piacciono di più e così via ma conosci te stesso proprio nel nel senso più intimo e profondo conosci quelle che sono le le strutture portanti della della tua vita della tua esistenza no come quando vediamo vediamo l'immagine di un grosso iceberg e eh se non guardiamo sotto la superficie del mare su cui galleggia possiamo pensare che sia solo quella punta eh che vediamo sulla superficie del mare ma in realtà quella punta è sostenuta da un'immensa massa di ghiaccio eh sotto il livello del superficiale del mare ed è proprio questa massa enorme sotto questa punta che fa sì che questo iceberg si possa spostare si possa dirigere ehm dovunque eh vuole arrivare quindi la nostra vita è così come anche un albero no l'immagine di un albero le radici profondamente radicate di un albero sono quelle che non vediamo ma che in realtà sostengono e nutrono l'albero in tutti i sensi e il giardiniere esperto che cosa fa porta l'acqua alla radice dell'albero più che preoccuparsi di spolverare le foglie o di eh lustrare il tronco porta l'acqua alla radice e ci siamo accorti quest'estate così torrida come sia importante appunto l'acqua che va alla radice delle piante delle coltivazioni dei nostri fiori del nostro eh prato davanti a casa no di quanto ha patito l'assenza di quest'acqua quindi ognuno di noi deve in qualche modo trovare questo equilibrio mente corpo anima proprio per sostenere la propria vita la propria evoluzione la propria realizzazione e nella medicina ayurvedica tutto questo viene mantenuto vi ricordo sostenendo e recuperando l'equilibrio dei tre dosha no vata pitt e caffa ormai chi ha già seguito le mie eh altre trasmissioni ricorderà che sono i tre principi metabolici più sottili che però sono quelli più determinanti nel mantenere il benessere della nostra neurofisiologia hanno delle collocazioni e delle funzioni specifiche vata soprattutto è collegato con la funzione di comunicazione movimento e trasporto ed è fatto di spazio e aria e quindi appunto è in grado di muoversi e di dare movimento anche alle altre due eh realtà che sono pitt e caffa eh vata la sede principale nel colon e coordina il sistema nervoso centrale periferico pitta invece ha la funzione di produzione produrre calore dare possibilità alla trasformazione a tutti i livelli nel nostro corpo i processi digestivi i processi metabolici quindi è quello che poi vi spiegherò meglio nell'argomento che tratterò stasera cioè eh la la capacità eh di una buona digestione quanto sia importante per mantenere una buona qualità della vita e una lunga durata della nostra vita quindi pitta la sede principale lo stomaco il duodeno l'intestino tenue e interagisce interviene in tutti i processi appunto digestivi e di trasformazione caffa il terzo doscia invece è fatto di acqua e terra la sede principale nel torace la funzione di caffa è eh di sostenere struttura coesione e lubrificazione del nostro corpo e tutti e tre ovviamente sono estremamente importanti diciamo che come diciamo nella medicina moderna nelle nostre ultime considerazioni nella medicina moderna abbiamo mh descritto quello che è l'asse neuro immuno endocrino quindi neuro il sistema nervoso e quindi vata ovviamente sono un po' il nucleo portante di tutta la nostra fisiologia infatti parliamo ormai da tantissimi anni anche nella medicina moderna di disturbi neurovegetativi di disturbi psicosomatici di disturbi eh che ehm dipendono da quello che è lo spauracchio un po' per tutti noi che è il livello troppo elevato di stress no? Lo stress viene definito anche nella medicina moderna il nemico numero uno e lo stress è quello che incide di più soprattutto sui disturbi cardiovascolari prime ehm primi disturbi a portare proprio alla morte piuttosto che anche sui disturbi ehm di di formazione di tumori e così via lo stress è sicuramente è molto eh diciamo negativo per tutto quelli che sono i nostri processi digestivi eh la eh medicina moderna ci dice che ehm i disturbi più frequenti sono quelli a carico del sistema nervoso le ma le eh quindi disturbi le malattie più frequenti sono quelle e eh le conseguenze di queste malattie le vediamo soprattutto a livello del sistema digerente i farmaci più venduti in farmacia sono gli psicofarmaci quindi comunque quando parliamo di disturbi del sistema nervoso parliamo di disturbi di comportamento di insoddisfazione di stress di ansia di insonnia e così via ma subito dopo gli psicofarmaci i farmaci più venduti sono i protettori gastrici gli inibitori di pompa quelle sostanze che eh purtroppo ormai vengono assolutamente usate ed abusate proprio perché eh la eh situazione primaria di stress e tensione va a influire pesantemente sulla nostra capacità digestiva e infatti no secondo la medicina urvedica la prima causa di tutte le malattie è quello che vi accennavo prima no? Gnozis e auton conosci te stesso se non conosci te stesso e quindi incominci a ignorare quei processi profondi che sono di di sostegno e di e mantengono la vitalità di tutti i nostri organi quindi questo tuffarsi profondamente dentro eh di sé se non facciamo ciò incorriamo in quello che secondo la urveda la prima causa di tutte le malattie e che viene definito in sanscrito l'antica lingua della scienza vedica pragya parad l'errore dell'intelletto cioè ritenere importanti le cose effimere e ritenere effimere le cose importanti purtroppo la nostra società bene o male è impostata così però eh fortunatamente ultimamente sicuramente chi partecipa a queste trasmissioni del canale focus tre punto zero è perché è interessato anche all'altro aspetto della vita no? Quello meno eh roboante meno eh spinto verso l'esterno meno spinto verso l'apparire più spinto verso l'essere come comunque dicevamo prima è proprio un'integrazione che si deve creare nella nostra vita e quindi ehm la urveda ci dice il perdere la memoria di questo stato così profondo e quindi la memoria come si dice anche nella medicina moderna le cellule sono impazzite hanno perso la loro memoria hanno perso il loro riferimento in che cosa? Eh ovviamente mh a livello biologico e biochimico il rapporto con il DNA ma il DNA a sua volta è in rapporto con gli stati più sottili della manifestazione dell'universo quello che i fisici chiamano il campo unificato di tutte le religioni natura in ultima analisi quello che nella medicina ayurvedica si chiama atma il sé la pura coscienza quindi quando noi ravviviamo quotidianamente attraverso lo yoga la meditazione trascendentale il vivere in mezzo alla natura il riconoscere la priorità del silenzio dentro di noi rispetto all'attività che ci circonda quando facciamo tutto ciò incominciamo a vivere meglio ci sono degli studi interessantissimi sui centenari e di ultra centenari sono persone sicuramente che vivono in un ambiente più naturale possibile che fanno esercizio fisico ma senza stancarsi che quindi l'esercizio fisico soprattutto è legato alla loro attività magari in campo agricolo piuttosto che nell'ambito di qualcosa di estremamente naturale legato alla natura però tutti questi ultra centenari hanno una loro risorsa spirituale che può essere legata a una spiritualità religiosa ma non solo è legata comunque a un'attitudine a un'attenzione a un atteggiamento verso le cose vitali verso le cose profonde e questo è una caratteristica dominante in tutti i centenari e ultra centenari non ci sono atei in questa categoria di persone e ripeto poi la la religiosità piuttosto che la spiritualità è sviluppata e coordinata con tantissime forme di di questo movimento no interiore verso la spiritualità detto questo quando appunto la grazie a discipline importanti come lo yoga la meditazione trascendentale il nostro se si ricongiunge con le manifestazioni della nostra neurofisiologia il problema della malattia si riduce notevolmente quindi questo ricongiungerci con il nostro se produce più facilmente un buon equilibrio dei tre dosha no quelli di cui vi ho accennato prima quindi vata è più in equilibrio meno iperattivo quindi meno iperattivo il nostro sistema nervoso meno gonfio il nostro addome pitta influenzato in maniera positivo da vata ha una sua buona funzione attività nella produzione e direzione della digestione e caffa ha un suo maggiore equilibrio la sua maggiore stabilità che conferisce più stabilità sia al nostro corpo che la nostra mente più morbidezza alle nostre articolazioni più sostegno a tutto quello che ha a che fare con struttura coesione e lubrificazione quando poi entriamo nel dettaglio soprattutto della funzionalità legata pitta incominciamo a trovare quello che è l'argomento che svilupperò più questa sera cioè come la yurveda gestisce la digestione e quale importanza la yurveda dà a agni il fuoco digestivo quindi i dosha sono assolutamente importanti ed è importante mantenere l'equilibrio però grazie a un buon agni grazie a un buon fuoco digestivo manteneremo estremamente vitali le nostre strutture e ridurremo la probabilità della formazione di una sostanza molto nociva per il nostro organismo che ama ama vuol dire tossine vuol dire radicali liberi vuol dire sostanze pesanti appiccose che si annidano soprattutto i nostri nei nostri canali quelli più grossolani tipo il tratto gastrointestinale sistema venoso arterioso il sistema linfatico ma anche i canali estremamente più sottili che sono quelli che portano l'informazione del sistema nervoso dal sistema nervoso centrale quello periferico e delle informazioni ancora più sottili che passano in questi canali speciali che nella medicina iurvedica si chiamano nadi e nella medicina cinese li troviamo descritti come meridiani questi canali così sottili devono mantenere la loro pulizia ed è più difficile tenerli puliti perché sono estremamente sottili e questi nadi questi canali collegano i quelli che vengono chiamati punti marma cioè punti vitali della nostra fisiologia dove avvengono delle attività estremamente importanti estremamente collegate proprio con la radice più profonda della nostra fisiologia con la radice più profonda che è la coscienza no quindi questi punti marma sono 107 punti principali ma ce ne sono migliaia anche in più rispetto a questi 107 principali sono quelli che nella medicina cinese vengono utilizzati come punti per l'agopuntura invece nella medicina iurvedica sono delicatamente accarezzati vedete questo qui si chiama adipati marma e corrisponde alla zona della fontanella del neonato e è un punto uno dei ma marma dei marma più grandi più importanti un altro punto marma è nella zona del cuore e anche qui viene massaggiato delicatamente con degli oli specifici e è un altro ma marma quindi una marma e marma della testa ma marma secondo ma marma il marma del cuore terzo ma marma il marma della vescica no perché la vescica in realtà è un organo così non ritorno ritenuto così importante ma in realtà è l'organo di raccolta di tutti i liquidi del nostro corpo quindi viene ritenuto dalla iurveda uno dei tre ma marma dei tre marma principali quindi se c'è una buona digestione vi dicevo non si formano queste tossine pesanti fredde appiccose che in aiurveda si chiamano ama e queste tossine così difficili da eliminare non vanno a ostacolare il passaggio in questi canali così sottili come vi stavo spiegando adesso il fuoco digestivo per la iurveda è rappresentato da 13 differenti funzioni ovvero c'è quello che è il capo un po della dell'orchestra direttore dell'orchestra che si chiama jataragni o antaragni o kai agni termini di nuovo sanskriti che è quello che ha la sede principale nello stomaco quindi ed è ovviamente in correlazione con pitta no il fuoco pitta abbiamo detto che come funzioni alla produzione di calore la trasformazione e la digestione quindi pitta la sede principale nello stomaco e anche jataragni il capo di questi 13 agni totali la sede principale ce l'ha nello stomaco quindi quando abbiamo un buon pitta abbiamo anche un buon agni quando c'è un buon pitta debole irregolare o coperto avremo un fuoco digestivo un jataragni debole irregolare o coperto quindi inefficiente e queste forme di inefficienza le ritroviamo in quelli che sono i disturbi principali della dell'uomo in questo in questo periodo storico no quindi un agni irregolare cioè un fuoco digestivo irregolare o visciama agni in sanscrito vuol dire una persona che una giorno un giorno digerisce primo secondo dolce e frutta e giorno dopo non digerisce neanche un cucchiaio di riso quindi agni in questo caso dominato da vata perché vata è spazio aria e irregolarità e movimento e quindi questa situazione molto frequente nelle persone che appunto non hanno mai la possibilità di capire come andrà la loro digestione proprio perché così irregolare oppure abbiamo un agni troppo acuto ticchna agni no si dice in sanscrito ticchna acuto acuto vuol dire un agni troppo forte no come avere una fiamma dove dobbiamo cuocere il cibo ma non riuscire a regolarla quindi questo cibo non riuscirà a cuocere bene perché rimarrà un po bruciato un po poco cotto quindi anche qui questa situazione porta anche spesso a una cattiva assimilazione e anche a una cattiva crescita dei nostri tessuti per cui la persona apparentemente diciamo fortunata brucia tutto ma brucia tutto sì non non aumenterà di peso ma brucia tutto al punto da bruciare consumare per esempio troppo il calcio a livello delle ossa quindi a soffrire anche in età precoce di osteoporosi oppure brucia tutto brucia male e a livello epatico non si produce un colesterolo di buona qualità e in equilibrio come quantità quindi spesso queste situazioni si verificano in persone che apparentemente o comunque anche non apparentemente mangiano bene però hanno dei valori metabolici non equilibrati spesso anche a livello bicemico proprio perché c'è questo fuoco che è troppo acuto no quindi ticna agni e c'è sempre di mezzo lo zampino di vata perché nel primo caso vi sciama agni la digestione irregolare perché questo vento soffia e poi dopo non soffia e quindi il fuoco un po' si accende di più un po' si spegne un po' irregolare in ticna agni il vento di vata è talmente forte che fa alzare troppo il fuoco di pitta e quindi come se con un mantice soffiassimo troppo forte sul legno che arde nel camino e questo legno brucia talmente velocemente che non riusciamo neanche a apprezzare il calore nella stanza o è troppo immediato e bruciante poi non c'è più poi abbiamo un terzo caso manda agni in sanscrito manda vuol dire debole fiacco no e manda agni è dovuto a una presenza di squilibrio di caffa come sempre è vata che ha in qualche modo disturbato caffa e quindi questo caffa no che è fatto di acqua e terra e pesante va a indebolire il fuoco di agni il quarto caso che quello ideale è sama agni sama equilibrio no quindi un agni equilibrato che digerisce nel tempo giusto che digerisce la quantità giusta di cibo che forma a tutti i livelli del sofisticato metabolismo che avviene nel nostro corpo da una produzione corretta di tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno io spesso appunto sentendo il polso le persone sapete no che l'analisi del polso è la metodica più approfondita che viene utilizzata nella medicina ayurvedica per diciamo esaminare la persona quali squilibri possa avere in questo momento ma anche quanto da quanto tempo questi squilibri siano presenti no e nel polso si sente benissimo quali sono le caratteristiche appunto di quella persona a livello digestivo se c'è una visciama agni quindi un agni irregolare o un manda agni un agni debole un ticna agni un agni troppo acuto o un sama agni e quello che io dico spesso le persone è appunto non ha lei non ha una buona digestione non ha una buona eliminazione e si sono formate tossine si è formato ama e spesso le persone giustamente mi rispondono ma no io digerisco bene non ho fastidio digestivo però poi quando approfondisco dico ma c'è sonnolenza dopo pranzo e molte persone mi rispondono ah sì sì infatti a pranzo cerco di mangiare poco per non addormentarmi poi sul lavoro questo non va bene perché già in altri incontri vi ho detto che il il pasto principale il pranzo non certo la cena e che di conseguenza se facciamo una un pasto non sufficiente a pranzo non nutriamo a fondo tutti i nostri organi quando parliamo di digestione in ayurveda parliamo di vari processi vari stadi come comunque diciamo che nella medicina moderna no ogni processo metabolico ha una sua precisa connotazione ogni sostanza che si produce nel nostro corpo ha una precisa sequenza di trasformazione nella medicina scusate che è il mio gatto che è impazzito nella medicina moderna noi parliamo di una una sequenza proprio metabolico digestiva che nel campo della medicina ayurvedica è assolutamente ben descritta perché vi dicevo gli agni fuochi digestivi sono tredici quindi l'agni principale già taragni o kaya agni o antaragni ha la sede nel nostro stomaco ma quel primo processo di trasformazione di anna così si chiama in sanscrito il cibo in ara rasa così si chiama il primo processo di elaborazione di questo cibo che abbiamo ingerito e per cibo intendiamo ovviamente tutto quello che introduciamo per nutrirci e per sostenerci ma di processo digestivo parliamo anche per quanto riguarda la digestione delle nostre emozioni delle nostre emozioni delle situazioni che dobbiamo rendere assimilabili per noi per crescere per evolvere e così via quindi oltre a questo primo processo iniziale a questo punto soprattutto a livello del duodeno che in sanscrito si chiama grahani che vuol dire trattenere quindi il cibo viene lì elaborato e trattenuto per poi essere assorbito a livello dell'intestino a questo livello incominciano a intervenire i pancia maa buta agni pancia in sanscrito vuol dire cinque maa vuol dire grande buta elementi fondamentali spazio aria fuoco acqua e terra una mela è fatta di questi cinque elementi e per rendere omologa la mela con i miei tessuti i miei organi i miei sistemi le mie cellule ognuno di questo chiamiamolo processo enzimatico specifico estrarrà dalla mela lo spazio l'aria il fuoco l'acqua e la terra quindi da quello elaborato iniziale questi pancia maa buta agni incominciano estrarre queste sostanze a quel punto questo ulteriore elaborato incomincia a circolare per tutto il nostro organismo in questi canali di cui siamo formati secondo la riveda questi schrotas questi canali sono numerosissimi ne abbiamo 13 nuovi principali ma poi sono numerosissimi e in questi canali incomincia a venire la successiva ancora più specifica elaborazione a carico fatta da i sapta dato agni sapta vuol dire sette dato sono i tessuti fondamentali che sono sette e gli agni corrispondenti questi questi tessuti sono rasa il plasma e il chilo e la linfa racta l'emoglobina mamsa il muscolo meda il tessuto adiposo diciamo la carne che ci riveste asti il tessuto osseo magia il midollo osseo e il tessuto del sistema nervoso e sciucra il tessuto riproduttivo quindi capite che digestione è un processo raffinato e sempre più raffinato che arriva addirittura a costruire qualcosa che potrà dare origine a un altro essere umano quindi questa è la digestione secondo la yurveda quindi capite perché è così importante una buona qualità di agni perché da agni dipende la qualità della vita la durata della vita e quello che riusciremo a realizzare nella vita anche proprio come riproduzione piuttosto che come anche esperienza di stati più elevati di coscienza quindi non è solo un processo che mi mantiene magro o invece non riesco a mantenermi il peso in forma giusto è qualcosa che interviene ai vari livelli della costruzione di tutti i nostri tessuti e per mantenere efficiente tutto questo processo così importante prima di tutto ritorniamo alla causa principale della malattia dobbiamo essere ben centrati in noi stessi perché così incomincieremo a sostenere l'equilibrio dei tre noscia e l'equilibrio di un buon agni quanti di noi hanno notato più volte di digerire molto meglio lo stesso alimento del giorno prima di digerirlo meglio perché in un ambiente più sereno perché in vacanza perché soddisfatti da qualche cosa che è accaduto nella nostra vita quindi quanto il sé e la mente influiscano sui processi digestivi ma poi abbiamo delle regole alimentari molto importanti ne ho già parlato le ricordiamo il pasto principale secondo la yurveda è il pranzo tra mezzogiorno e luna perché tra le 10 e le 2 del pomeriggio è al massimo l'attività di pitta che quindi è l'attività che sostiene agni è il fuoco che viene mantenuto in quegli orari non allo stesso modo tra le 10 di sera e le 2 del mattino perché lì avvengono questi processi sottili e profondi a livello dei butagni quindi degli elementi fondamentali e a livello soprattutto dei sette tessuti che si stanno costruendo negli altri orari e soprattutto nell'orario kafa quindi dalle 6 del pomeriggio alle 10 di sera kafa è lento kafa è costituito da acqua e terra quindi è molto lento mantiene tutto in un rallentamento generale quindi mangiare il pasto principale alla sera spesso tardi perché tante persone cenano alle 9 di sera o anche peggio vuol dire mangiare sotto l'influsso di questo rallentamento dovuto a kafa e quindi tra le 6 e le 10 dobbiamo assumere il più presto possibile una cena leggera la quantità di cibo il nostro stomaco è grande come le due palmi delle nostre mani messi vicino e quindi ognuno avrà uno stomaco diverso una capacità diversa a seconda della propria struttura ma non solo così il nostro stomaco va diviso in tre parti una parte viene occupata da cibo solido una parte da cibo liquido una parte va lasciata libera per il movimento di varta pitte kafa quindi capite che già noi in generale mangiamo troppo mangiare sempre in un ambiente armonioso il più possibile non guardare la televisione sicuramente poi soprattutto nelle circostanze che stiamo vivendo dove le notizie che ci bombardano con i telegiornali sono una più raccapricciante dell'altra quindi mangiare in un ambiente tranquillo non mangiare mai prima che il pasto precedente sia stato digerito mangiare cibo soprattutto cotto e non crudo noi abbiamo sviluppato adesso questa falsa convinzione che il cibo crudo ci dia più nutrimento più vitamine più minerali ma non è assolutamente vero ormai neanche per la medicina moderna il cibo va come si dice in Ayurveda processato, elaborato va combinato anche nella maniera corretta per esempio mai bere il latte mentre si mangiano cose salate o mentre si bevono per esempio la spremuta d'arancia quindi cose acide e purtroppo il latte come vedete nelle varie trasmissioni televisive in cui si propongono i vari cuochi e chef spesso viene usato il latte per fare delle combinazioni alimentari quindi il pasto deve contenere tutti e sei i sapori secondo la Ayurveda dolce, acido, salato, piccante, amaro, astringente spesso mangiamo appunto io sento dire persone no io o mangio il primo o mangio il secondo no non è corretto così dobbiamo mangiare un po' di tutto in piccole quantità ma deve essere presente nel nostro pasto un po' di tutto possiamo cominciare anche con un gesto di riconoscenza verso il cibo anche semplicemente 30 secondi di raccoglimento davanti al cibo che ingeriremo perché dal cibo dipende tutta la nostra vitalità da tutta la nostra forza tutta la nostra energia e oltre che dal cibo come abbiamo detto fino a qui ripetutamente da un buon processo digestivo da un buon Agni quindi aiutiamo Agni a funzionare meglio anche dandogli un attimo di riconoscenza di attenzione e possiamo precedere il nostro pasto soprattutto quello principale quindi il pranzo lo possiamo usare sempre da un aperitivo a base di fettine di zenzero fresco a parte persone che hanno una magari una presenza di Ticna Agni quindi di un Agni troppo acuto quindi di magari la tendenza ad avere bruciore di stomaco dove potrebbe lo zenzero fresco dare qualche piccolo bruciore però ricordatevi che lo zenzero fresco è un pochettino piccante in bocca ma è dolce nello stomaco quindi difficilmente dà problematiche anche a chi soffre di bruciori di stomaco in quel caso quando vediamo che lo sopportiamo lo possiamo condire con un pizzico di sale qualche goccia di limone un pochino di miele proprio perché ognuno di questi componenti favorisce oltre che la digestione il movimento verso il basso e l'assorbimento via via a livello di tutti i meccanismi digestivi che vi ho descritto prima quindi qualche fettina di zenzero fresco un pizzico di sale qualche goccia di limone una puntina di miele è un ottimo aperitivo per migliorare la nostra digestione e non bere troppo liquidi durante il nostro pasto perché vanno un po' a incidere sull'eccessiva diluizione del fuoco digestivo quindi è meglio un pochettino stare attenti a questo discorso un buon digestivo può essere il lassi il lassi ne ho già parlato in altri collegamenti è lo yogurt diluito con acqua ecco per esempio l'abitudine di mangiare lo yogurt così che sembra essere diventato un'abitudine salutista secondo la Yurveda non va bene perché lo yogurt è acido, pesante e appiccicoso quindi è meglio diluire lo yogurt con un pochino di acqua tutto a temperatura ambiente aggiungere qualche spezia un po' di cannella un po' di zucchero di canna un po' di cumino un pizzico di sale e il lassi diventa un buon probiotico un buon digestivo che possiamo bere dopo pranzo non dopo cena perché alla sera lo yogurt è comunque sconsigliato quindi piccoli accorgimenti e come vi dicevo la cottura la cottura non trascuriamo il fatto che la specie umana ha avuto una notevole spinta evolutiva quando ha scoperto il fuoco per cucinare per scaldarsi certo ma anche per cucinare non dimenticate che ormai la scienza moderna è andata avanti nelle sue ricerche e conclusioni e si è visto che la maggior parte dei bioflavonoidi si assimilano meglio dai cibi cotti nelle verdure cotte queste sostanze così vitali per il nostro organismo per esempio il bicopene del pomodoro si assimila solo dal pomodoro cotto quindi non continuiamo a insistere in questa convinzione che è un bel piatto di insalata un'insalatona come viene descritta ci faccia gran bene assolutamente no prima di tutto l'insalata è solo cellulosa e ci sono anche delle microorganismi sull'insalata che producono mucillagini altamente infiammanti per il nostro intestino quindi meglio cuocere il cibo non stracuocerlo perché il fuoco il fuoco dà agni al cibo quindi dà maggiore digeribilità al cibo possiamo cuocerlo anzi dobbiamo cuocerlo con il ghi il burro chiarificato quando il burro viene cotto lentamente perde caseina lattosi umidità è un grasso ricco di vitamina A vitamina E vitamina D vitamina K a un punto di fumo molto elevato intorno ai 230 gradi quindi mantiene bene le alte temperature di cottura infatti gli chef conoscono le proprietà del burro chiarificato burro che si è sempre prodotto nelle nostre montagne dal latte negli alpeggi per conservarlo a di fuori del frigorifero la procedura della produzione di burro e cottura del burro è sempre stata fatta quindi il burro chiarificato dà una maggiore digeribilità al cibo che cuociamo e è a sua volta un prodotto che stimola la digestione nelle tradizioni di celebrazioni in India che è stato in India ricolverà queste celebrazioni lungo il Gange nei templi si accende il fuoco perché il fuoco ha questa valenza propiziatoria in tutti i sensi a livello appunto della nostra digestione è assolutamente propiziatoria per una buona digestione e nel momento in cui questo fuoco che viene fatto roteare in queste cerimonie dove vengono recitati questi mantra questi questi suoni particolari il fuoco viene alimentato da che cosa sì dalla legna da questi legnetti ma si innesca il processo della fiamma si alimenta la fiamma aggiungendo del ghi del burro chiarificato quindi proprio perché la capacità di bruciare del ghi è estremamente rapida estremamente preziosa estremamente vitale quindi il fuoco che alimenta la nostra digestione dà la possibilità a tutti i nutrienti di essere non solo assorbiti in maniera specifica come vi ho spiegato prima ma anche poi trasportati e trasformati in tutte le parti del nostro organismo quindi questa quindi correlazione tra vitalità e la durata della vita attribuita dalla yurveda al fuoco digestivo è assolutamente coerente e importante il fuoco ci permette il fuoco digestivo anche di avere un intelletto acuto avere una memoria più pronta avere un'attenzione più pronta quindi una lucidità nelle decisioni che dobbiamo prendere nelle situazioni che dobbiamo gestire nella forza anche di gestire queste situazioni ecco quindi ricordatevi quello che vi avevo già spiegato anche in altre lezioni il fuoco è molto importante per la nostra vitalità va mantenuto alimentato e rispettato seguendo le indicazioni di una buona routine quotidiana quindi perché alzarci presto al mattino l'abbiamo già detto perché in realtà tra le due di notte e le sei del mattino domina Vata nel nostro organismo e Vata è responsabile della nostra energia e vitalità quindi se ci alziamo entro le sei del mattino avremo quell'energia quella vitalità portata da Vata perché mangiare il pasto principale tra le diciamo le dodici e le tredici perché alle dodici Pitta è allo zenit come è allo zenit il sole quindi lì tutti i processi digestivi funzionano molto bene perché andare a dormire entro le dieci di sera perché tra le sei di sera e le dieci di sera predomina Kafa quell'elemento che nel nostro corpo quel dosha che nel nostro corpo produce più quiete più tranquillità più morbidezza perché fare una colazione leggera in base all'appetito che abbiamo perché tra le sei e le dieci del mattino di nuovo predomina Kafa quindi la pesantezza e perché la cena deve essere leggera e per lo stesso motivo perché tra le sei e le dieci di sera predomina Kafa quindi tutto in accordo con i ribbi della natura perché facciamo parte della natura siamo natura anche noi e più ci riconciliamo con la natura e più possiamo mantenere la salute arrivare a quello che sarà a traguardo della nostra vita che sappiamo inevitabilmente ci produrrà questo addormentamento per poi sicuramente risvegliarci in un'altra realtà che sicuramente sarà evolutiva però dobbiamo arrivare avendo realizzato il percorso della nostra vita e in questo l'equilibrio dei dosha un buon agni dei buoni canali dei buoni srotas liberi la riduzione di ama le tossine vi ricordate le tossine le possiamo ridurre con l'acqua calda bollita per 15 minuti anche qui diamo agni diamo capacità digestiva a quest'acqua oltre che la possibilità che quest'acqua si trasformi in qualcosa di estremamente sottile perché nella bollitura per 15 minuti si rompono questi legami di Van der Waals che mantengono troppo compatti e grossi questi cluster di molecole d'acqua quindi usiamo anche l'abitudine del termos di acqua calda bollita bevuto a lungo la giornata proprio per pulirci anche da questi accumuli di ama di tossine e quindi una buona routine una buona alimentazione la scelta ovviamente di cibi sani assolutamente sì però lo strutturare è un buon potere digestivo perché chi ha un agni forte può produrre dal veleno ambrosia chi ha un agni debole produce dall'ambrosia veleno e anche per stasera spero di avervi dato dei buoni stimoli delle buone informazioni ci rivedremo poi tra un mese circa poi vedrete quando sarà la prossima mia trasmissione poi per il mese di novembre e quale argomento tratteremo vi saluto grazie a tutti e appunto appuntamento alla prossima live focus 3.0 il mistero della vita grazie grazie a Enrico Ballantini grazie a Anna Tamburini e alla prossima